Nessuna richiesta di riti alternativi per i 21 indagati nell'ambito dell'inchiesta Green Connection, la prima che sconvolse nell'ormai lontano 2006 l'amministrazione comunale di Pescara, da poco guidata da Luciano D'Alfonso e che portò alle dimissioni dell'assessore dell'Italia dei Valori Rudy D'Amico, delegato al Verde Pubblico. Associazione per delinquere, turbativa d'asta, incendio e violenza privata, le accuse a vario titolo contestate dalla procura di Pescara a carico di pubblici amministratori, dirigenti comunali e imprenditori a giudicatari di appalti per la manutenzione del Verde Pubblico. All'epoca l'inchiesta fu condotta dal PM Guerra, oggi non più a Pescara, e dunque sostituito nell'udienza preliminare di stamani davanti al GUP De Matteis dal collega Di Florio, che probabilmente ne erediterà il fascicolo, allorquando, nelle udienze che il GUP ha convocato per il 2 e il 16 marzo prossimi, si entrerà direttamente nel vivo del contraddittorio in udienza preliminare tra accusa e difesa. Stamani intanto nessuno dei legali degli indagati ha chiesto il patteggiamento in rito abbreviato. Il perché lo abbiamo chiesto a Leo Brocchi, difensore di uno degli indagati. Per la ragione che c'è una sorta di forse opportuna idiosincrasia rispetto alla possibilità che il giudice dell'udienza preliminare abbia di verificare insieme ai difensori, che hanno la stessa difficoltà, l'enorme mole di materiale documentale. Si tratta di reati contro la pubblica amministrazione, quindi le tracce prevalentemente, io ritengo per lo meno per la posizione personale del mio assistito. Se esistono sono negli atti, quindi si tratta di comportamenti di pubblici amministratori, pubblici funzionari che se sono da ritenersi legittimi sotto il profilo amministrativo difficilmente potranno avere una diversa visione sotto il profilo penale. Anche su questo processo, come su tanti altri, incombe la scure della prescrizione, specie nel caso dovesse cadere l'accusa di associazione a delinquere. Alcuni dei fatti contestati risalgono infatti al 2004. Così andrà dunque fino in fondo, ma anche su questo processo, perché i fatti insomma sono abbastanza risalenti, come si suol dire, c'è il rischio della prescrizione? Può essere, dipende anche da cosa bolle nella pentola del legislatore, che è uno molto estroso, quindi di solito a fine anno tra finanziari e anche leggi di altro genere ci dà sempre delle sorprese, siamo in Italia. In precedenza, sempre il gruppo De Matteis, ha tenuto stamani l'udienza preliminare relativa ad un'altra inchiesta che ha toccato il mondo della politica, quella sulla gestione dell'azienda speciale per i servizi sociali Deborah Ferrigno, filone collaterale alla max inchiesta ciclone di Montesilvano. Anche in questo caso è indagato per corruzione l'ex sindaco Enzo Cantagallo, assieme all'allora direttore dell'azienda Gianluca Di Blasio e ad altri otto tra pubblici amministratori e funzionari accusati di reati minori. Stamani ha prestato giuramento il consulente tecnico d'ufficio, dottoressa Caterina Del Zingaro, che così come per l'inchiesta ciclone avrà il compito di sbobinare le intercettazioni telefoniche e ambientali indicate da accusa e difesa. Il termine fissato è di 90 giorni a partire dal prossimo 11 gennaio. Anche il difensore di Cantagallo, Milia, ha indicato un consulente tecnico di parte. Il processo riprenderà nel pomeriggio del 6 aprile 2010. Sono circa un centinaio le telefonate da trascrivere, a differenza che nel processo ciclone, dove le intercettazioni sono racchiuse in 337 cd, una mole talmente imponente che nell'udienza ciclone del prossimo 12 gennaio la stessa dottoressa Del Zingaro quasi certamente chiederà di essere affiancata da un pool di altri periti d'ufficio per accelerare un lavoro che altrimenti comporterebbe tempi biblici.